Alle mie spalle dietro al Cancello la centralina di Arpae, la stazione Giordani-Farnese in pieno centro storico a Piacenza, sono state 83 le giornate in cui le polveri fini sono risultate fuori legge. Il limite consentito dall'Unione Europea è 35, dunque le giornate con un eccesso di polveri sottili sono state oltre il doppio. 59 sono state le giornate di sforamento di PM10 registrate alla stazione di Monte Cucco, 24 a Lugagnano, una a Corte Brugnatella. Un anno dunque particolarmente critico se confrontato con il 2016 quando i limiti alla stazione Giordani-Farnese ad esempio furono superati 45 volte contro le 83 del 2017. Decisamente critico sicuramente, è stato un anno che ha visto una situazione meteoclimatica anche molto particolare, molto particolare non solamente a livello locale ma a livello complessivo direi del nostro pianeta. Sicuramente le condizioni meteoclimatiche che hanno visto poche piogge e hanno visto anche condizioni molto variabili di ingresso di masse di aria dal nord, piuttosto che quindi una variabilità molto grande, sicuramente hanno avuto un'impennata rispetto all'anno precedente. Abbiamo avuto numerosi giorni di superamenti dei livelli di riferimento per quanto riguarda le PM10, possiamo parlare di un incremento non del doppio ma quasi e per quanto riguarda invece le PM2,5 per cui non c'è un limite giornaliero, il valore medioannuale comunque dalle prime elaborazioni risulta incrementato rispetto all'anno precedente e in alcuni casi anche superiore al valore di riferimento di legge. Un altro problema è quello legato all'ozono. E anche in questo caso le condizioni particolari di quest'estate molto calda, quindi temperature molto elevate e forte irraggiamento solare hanno fatto sì che questa particolare annata sia stata particolarmente critica anche per l'ozono. La situazione di inquinamento è generalizzata in tutta la pianura padana, a breve usciranno i dati definitivi elaborati da Arpae.